La macchina della campagna vaccinale pugliese può riprendere velocità. Consegnate nelle scorse ore altre 152.000 dosi di vaccino, 124.400 sono fiale AstraZeneca, 16.900 targate moderna e 10.500 portano la firma di Johnson & Johnson. Dotazione complessiva dunque che secondo i dati del Ministero vede in giacenza circa 250.000 vaccini, sommando anche la scorta residui di Pfizer. Tradotto vuol dire possibilità di ripartire in tutte le province con conseguente effetto domino sulle somministrazioni agli over 70, alle quali seguiranno dalle prossime ore quelle per la fascia 60-69 anni. Al Vito Fazzi di Lecce intanto si sospetta un possibile caso di variante indiana e l'arrivo da Taurisano, ma che potrà avere contorni chiari soltanto dopo gli accertamenti circa una donna di origine indiane, reduce da un viaggio nel paese d'origine, poi risultata positiva a fine aprile. La novità nel Baresa invece ha a che fare con visite e consulti medici in remoto per monitorare pazienti Covid a casa. È il nuovo progetto sperimentale di telemedicina avviato dalla ASLE in collaborazione con la Protezione Civile. Il coordinamento delle USCA, dell'azienda sanitaria, infatti, dopo la dotazione degli ecografi portatili, ha potenziato l'assistenza con l'impiego di ulteriori dispositivi in grado di rilevare i parametri vitali dei pazienti, saturazione, temperatura, frequenza cardiaca e anche la pressione. Lo screening consiste nell'utilizzo di un apparecchio che viene fornito al paziente, 50, al momento quelli in dotazione, grazie al quale può interagire con il medico. Il dispositivo può eventualmente fare anche un elettrocardiogramma. I teleconsulti hanno regolarità giornaliera di due interventi al giorno. Le valutazioni dei parametri vengono eseguite invece quattro volte nell'arco della giornata.